Prima di immergerci nel cuore del video, ti invito a cliccare sul pulsante di iscrizione e attivare le notifiche. Così resterai sempre al passo con le ultime notizie. E se ti piace il contenuto, ti sarei grato se lascerai un like. Grazie. Il nome di Lamberto Sposini evoca due immagini ben definite nella mente delle persone. La prima riguarda la fama e l'ammirazione di cui godeva il giornalista fino al giorno dell'infelice incidente. L'altro ricordo, purtroppo, riguarda il tragico evento del 29 aprile 2011 che trasformò la vita del presentatore in un labirinto oscuro e senza uscita. Questo evento catastrofico ha alterato irreparabilmente il percorso di vita di questo popolare presentatore televisivo che da allora non è mai riuscito a riacquistare completamente la vita che conduceva prima. Le conseguenze per Lamberto sono state disastrose. Lamberto Sposini ha dedicato tutta la sua vita al mondo della televisione. Il suo esordio risale addirittura al 1978. Eppure, sembra che tutti lo abbiano dimenticato ora che non gli è più permesso di tornare alla luce dei riflettori. Le sue parole sono ora nelle mani dei colleghi che continuano a seguire il suo caso. Una questione che, nonostante sia stata messa da parte dai riflettori, non sembra più suscitare interesse o emozione tra i milioni di italiani che per anni sono stati intrattenuti da questo uomo. Perché, nonostante i medici siano riusciti a salvare la vita del giornalista, la sua carriera è stata bruscamente interrotta dalle conseguenze dell'emorragia cerebrale. Oggi, Lamberto non può più parlare e la sua vita ruota quasi esclusivamente attorno alla figlia Matilde, nata dal suo rapporto con Sabina Donadio. Grazie alla costante e affettuosa assistenza di Matilde, Lamberto Sposini riesce a continuare a vivere. Oggi, Lamberto non può più parlare e la sua vita ruota quasi esclusivamente attorno alla figlia Matilde, nata dal suo rapporto con Sabina Donadio. Grazie alla costante e affettuosa assistenza di Matilde, Lamberto Sposini riesce a continuare a vivere. Le sue condizioni evocano un profondo senso di compassione, ma Sabina è rimasta al suo fianco. Lei è quella che continua a gestire le relazioni pubbliche per lui, che da quel fatidico giorno ha perso la capacità di parlare. Lamberto Sposini oggi comunica con gli occhi e per chi sa decifrarli non ha più amici e la sua vita è in rovina. Sabina Donadio ha riconosciuto che sono passati sei anni dall'emorragia e oggi purtroppo Lamberto è una persona diversa, ma con il sostegno fisico dei colleghi sarebbe sicuramente diverso e ancora vivo. Tuttavia, per la TV, Sposini sembra non esistere più, una pagina che il mondo del giornalismo italiano sembra voler dimenticare senza mostrare alcun segno di solidarietà o compassione per una persona che ha scritto pagine importanti per l'intero movimento. L'auspicio è che episodi simili non debbano accadere in futuro. Ora vorrei sentire la tua opinione su questa notizia. Non esitare a condividere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. E prima di salutarti, ti ringrazio per aver trascorso questo tempo con noi. Alla prossima!